Vi ritrovati con l'edicola di Sky TG24, andiamo a ripercorrere la giornata che ci siamo lasciati alle spalle così come viene raccontata dai principali quotidiani. Oggi in Medio Oriente il mattino di Puglia decide di aprire così i palestinesi nella striscia di Gaza che non solo devono far fronte ai continui attacchi dell'esercito israeliano ma anche del rischio concreto di una carestia, se non li uccide li affama, è il titolo di apertura, la denuncia del supporto umanitario delle Nazioni Unite alla striscia di Gaza, Israele blocca ogni aiuto ai civili palestinesi massacrati, persino bombole d'ossigeno in un accanimento personale di Netanyahu, così il mattino di Puglia e Basilicata.